Diego, com'è andato il primo giorno? E' bene, bene, contento di essere insieme ancora e cominciare già a lavorare per questa stagione. Ieri cosa avete fatto di specifico? No, niente particolare, solo una ripressa, un po' di giochini anche e niente, cominciate già a lavorare stagliamente. E il gruppo com'è? È stato bello ritrovarsi dopo un po' di vacanza? Sì, le vacanze fanno bene per riposare, ricaricarci e ieri è stato bello perché ci conosciamo entrambi quasi tutti e quindi siamo molto contenti. I tifosi non possono essere qui ma sono con il cuore con voi? Sì, questa è una cosa particolare che ancora si sta colpendo, però prima o poi si potrà e potremo guardarci tutti i momenti insieme. Grazie mille Diego, buon allenamento. Grazie.